Siamo con Mario Badolato, il match winner della partita vinta di Polo Sud per 2-1 contro Iapo e Lachè. Match molto duro, Mario. Sì, è stata una partita abbastanza combattuta. Allora non volevano farci segnare, però alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ok, quindi un difensore d'Arcigno che però ha risolto lì la partita con un grande calcio dalla distanza. Eh sì, è stato un bel tiro, grazie anche all'assist di Bocchetti, però va bene così. Ok, quindi allora siete lanciati per la vittoria finale, Mario? Sì, sicuro. Ok, grazie mille, alla prossima giornata.